Che cos'è il muco cervicale? Perché è importante? Il muco cervicale è una secrezione mucosa delle ghiandole cervicali, del canale cervicale, che viene prodotta differenziandosi in quantità e anche in differenza strutturale nelle varie fasi del ciclo mestruale. La loro sua importanza è in questo suo cambiamento di fase per che aiuta i vari momenti di passaggio della spermatozoo in cavità uterina. Come avviene l'esame del muco cervicale in clinica? L'esame del muco cervicale è molto semplice, diretto per il prelievo del po' di muco che messo a due vetrini può permettere di vedere una sua quantità, una sua filanza, una sua capacità di essere esteso e meglio ancora in un esame microscopico per vedere la strutturazione in falce che vengono costruite nel momento clou dell'ovulazione della donna. E un test coitale esattamente che cos'è? Il test coitale è l'applicazione dell'esame del muco cervicale nella valutazione della capacità di penetrazione dei spermatozoi dopo un rapporto spontaneo. avvenuto il rapporto a distanza di un determinato tempo, due ore, si fa una valutazione del muco cervicale in cui si vede un espermatozoi in movimento in quantità e in capacità di velocità di attraversamento.